salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo con shadow blade reload proseguiamo la nostra avventura siamo a livello 7 vediamo vediamo ok pronti pronti a partire e a proseguire con questo gioco che mi sta calmando a cazzo chi ha moto lo dobbiamo affrontare siamo sicuri proprio così oh merda cazzo questo ci spacca il culo a dobbiamo correre damose merda vai cazzo eh vabbè ciao mare dove mira qua qua sto no un po' più in qua cazzo eh va bene la parola vabbè aia ci ha svampato la faccia un altro po' un altro po' un altro po' merda eh vabbè però ce l'ha fatta forse no vabbè sti cazzi un po' più su qua grande damose via via ci abbiamo fatta ok una mezza fuga non lo so sta di fatto che ah hanno beccato l'anzianotto lì eh noi ci hanno arato ma va bene questi sono dettagli dieci mesi dopo addirittura una farfalla dalle sembianze abbastanza ambigue tra l'altro abbastanza bruttarella farfalla fa visitare il giovincello mazza quant'è brutta però eh e lui la libera ok mentre noi sti cazzi siamo a giocatrice da soli non è vero attenzione alla stessa farfalla viene anche da noi si boggia e noi la lasciamo andare ok è tempo era un segno questa farfalla come detto abbastanza brutta siamo pronti per la battaglia abbiamo aspettato sei mesi disegnando sulle rocce a quanto pare vabbè ognuno ha i suoi hobby eh ah abbiamo fatto ci ha sbloccato il primo capitolo a difficoltà difficile ma siccome downtown è quella che abbiamo fatto capitolo 1 giusto capitolo 5 capitolo 5 no era il dojo eh si downtown e 4 vediamo dojo completata upper dojo quello sarà dopo e va bene andiamo a jade city grande così no ci piace anche la struttura del gioco sembra abbastanza complessa tra virgolette nel senso che sembra curata anche la campagna quindi ce n'è da da giocare e da bestemmiare eh don't worry pronti e qui siamo nelle fogne questo è un po' alla tartaruga ninja aspetta mi insino qua noi sti cosi li proviamo sempre a prendere poi tra l'altro non è facile perché questo che cazzo fa spikes che fa spikes non lo so non l'abbiamo avuto non abbiamo avuto modo di vederlo fanculo aspetta che prendo anche questo eeeh come mai ho così poca vita tra l'altro ci sto facendo caso adesso vabbè si riprenderà spero non lo so intanto scendiamo piano no no aspettate allora se si scende così facilmente significa che dobbiamo andare su per prendere qualche bonus infatti la cazzo siamo scesi con molta sportiveggianza aspetta ok la la e la attenzione a sto bastard mamma mia la cattiveria grande così ok provo a salire su merda cazzo mica l'avevo visto oppela piano salvato distrutto fatto macello occhio mamma mia la la cazzutaggine di questo che abbiamo fatto non lo so vabbè comunque sta di fatto che dobbiamo prendere dicevo abbiamo anche un certo tempo ah cazzo questo veloce no la ma catroia attenzione rischio si rischiano anche bestemmioni qua attenzione la partiamo con cattiveria vai così pallettoni la allora qua scendiamo moment moment eh qua sono un po' cazzi allora facciamo catroia merda e basta con sti cosi vabbè sti palline non credo che le dobbiamo prendere tutte questi magari ci provo ma le palline facciamo sti cazzi eh in alcuni casi è meglio non rischiare la sorte qua abbiamo salvato quindi oppela merda si damose damose a risalva a risalva qua ci sono salvati a culo mamma mia ma hanno svampato con una cattiveria immensa no caputana che culo questo è culo da parte sua naturalmente noi siamo stati no cazzo allora aspettate un momento perché qua la situazione si complica vabbè l'abbiamo finito beh è così ok siamo morti abbastanza però c'è qualcosa qui da prendere assolutamente no quindi evitiamo di andare a morire basta ma ah che poi in realtà no non è la salute quella che che vedevo io non ho capito qua il treno come cazzo funziona aspetta perché il treno mi deconcentra che non riesco a capire un cazzo dove devo andare o meno aspetta non è la salute ma penso che sia la percentuale di pallettoni gialli che prendiamo dovrebbe essere quella grande il nostro ninja allora occhio a questo qui aspetta tagliuzzato come se non ci fossero in realtà in realtà questa zona è un po' bella mi scusi non c'era qualcosa da prendere non lo so troppe luci troppe mi perdo sicuramente dei collezionabili così è troppo una cacciara aspetta meno ok eccala eh vabbè perché dobbiamo calcolare all'istante vabbè ci siamo persi qualche pallina non fa niente direi qua dobbiamo fare una cosa tecnico-tattica e basta eeeh oppela anche qui aspetta cazzo eh ci sono saltato io sopra e quello è il bello maledizione che l'abbiamo fermato giusto in tempo no perché me l'ha messa così ma io così no non posso più ri eh no si è si è inceppato adesso perché scusate se se mi lascia quel coso ah ok ce l'ha rimesso giusto basta cos'è secondo me ci possiamo anche perdere qualcosa qui ma non non saprei no mamma mia in testa proprio con cattiveria ho preso il secondo attenzione a questo più in alto qua ecco qua ci ha svampato come se non ci fosse un domani sono bastardi quelli col fucilazzo però perché ogni tanto ti ti beccano un po' a culo ma ti beccano aspetta no eh ma non salta non salta il ninja mortacci sua a ninja mannaggia la troia di Eva attenzione iniziano le difficoltà la questo cazzo cosa lo dobbiamo rifare sempre ammazza questo cazzo ce ne siamo persi uno vabbè sti cazzi eh eh qua i punti sono un po' meno perché ci perdiamo ci stiamo iniziando a perdere dei pezzi però l'obiettivo adesso ragazzi arrivare alla fine del livello magari bestemmiando il meno possibile non si bastardo fanculo la troppo ninja troppo ninja aia questo ci fa male the cook venga qui ah questo non si fa prendere vaffanculo e questo dobbiamo squisciare dall'alto aspetta qua c'è qualcosa sicuro me lo sento la ok siamo troppo ninja cazzo questo solo dall'alto mi sa che lo posso ammazzare attenzione qui attenzione qui merda papaculo attenzione attento l'abbastardaggine di questi uomini aspetta aspetta fanno oh e scendi no così ah c'era eeeh vacca troia dove cazzo sto vabbè fanno così scusa eh eh sennò qua non la finiamo più eeeh calla che non lo sapevo aspettate perchè stiamo solando da panico che adesso iniziano ad essere tutti più ci siamo salvati a culo qua non so come eh ma io dove devo andare scusate destra o sinistra questa me la dovete spiegare un momento voglio no qua si esce forse e cazzo come faccio a risalire non lo so aspetta prima che questo mi apre la porta qua no ho fatto la stronzata mi sa via via no voglio arrivare qua perchè se no ci perdiamo dei collezionabili o qualunque cosa sia collezionabili tutta sta cacciara già ce ne eravamo persi uno fanculo come riscendo qua eh no mo chiuso la porta cazzo perchè dovevamo non lo so ah no possiamo scendere e basta fratello sto dietro bella inscivolata addirittura vabbè ce ne siamo persi uno ok va bene allora ragazzi anche qui direi che ci possiamo salutare con questo episodio ritorniamo alla mappa più o meno ci manteniamo sui 15 minuti dai eh jade city ne abbiamo fatti eh abbiamo fatti un po' dai ci vediamo con il prossimo appuntamento allora con il nostro shadow blade reload come sempre commentate fatemi sapere la vostra seguitevi sul primo canale sulla pagina facebook e al prossimo video un saluto a tutti da quel taleale